Dietro il volto di un bimbo, bimba, ragazzo, ragazza, uomo, donna, può esserci anche il diabete giovanile, il diabete tipo 1. Ognuno di noi è un gran gradiatore di fronte al diabete che incuta timore. Il nostro è il diabete di tipo 1, nessuno l'ha scelto, ma proprio nessuno. Seba trasmette di lavorare in causa di certo, non è alimentare. Il processo il tumore lo fa fermare, così l'insulina ci dobbiamo fare. Ma il calcolo dosi è manuale, la perfezione viene mancata. In ogni istante della giornata dobbiamo tenere la guardia alzata. Neppure la notte puoi dire io morto, perché tocca fare sempre un controllo. Insomma che dire, è un gran casino e più delle volte ce l'hai da bambino. Diagnosi facili a questo diabete, ma solo se sintomi li conoscete. Se fa pipì e se beve tanto, se vostro figlio è sempre stanco. Vi prego state davvero attenti, meglio pretendere a certamenti. Un bimbo a scuola non può fare decisione, questa è la vera discriminazione. Viva lo sport, che bene fa, poi ti fa storie per l'idoneità. E se da piccolo lo puoi sognare, poliziotto e pompiere poi non te li fa fare. Pilota e soldato non te li fa fare, ma questo adesso è da rivalutare. Perché è davvero un controsenso. Se il medico attesta, un buon compenso. Il diabete re, un diabete re. Il diabete re, un diabete re. Nessuno lo nota, che strana sta cosa. Però è malattia molto pericolosa. Che non si smetta di ricercare. La guarigione si deve trovare. Affinché Odì possa dire qualcuno. Avevo il diabete di tipo 1. Ora non voglio annoiare nessuno. Ringrazio e finisco il mio rap di tipo 1. Per Plinio, Elena, Federico, Enrico, Giada, Ginevra, Andrea, Dylan, Camilla, Fede, Lollo, Giorgia, Fede, Lidia e tanti tantissimi altri. Oh yeah!